Buongiorno Onorevole Pelillo, buongiorno Angelo di qui, mi scusi come valuta questa situazione del PD di Taranto? Onorevole, stiamo facendo un informe a una domanda. Buongiorno Onorevole Pelillo, buongiorno Angelo di qui, mi scusi come valuta questa situazione del PD di Taranto? Onorevole, stiamo facendo un informe a una domanda. Buongiorno Onorevole Pelillo, buongiorno Angelo di qui, mi scusi come valuta questa situazione del PD di Taranto? Onorevole, stiamo facendo un informe a una domanda. Buongiorno Onorevole Pelillo, buongiorno Angelo di qui, mi scusi come valuta questa situazione del PD di Taranto? Onorevole, stiamo facendo un informe a una domanda. Buongiorno Onorevole Pelillo, buongiorno Angelo di qui, mi scusi come valuta questa situazione del PD di Taranto? Onorevole, stiamo facendo un informe a una domanda. Buongiorno Onorevole Pelillo, buongiorno Angelo di qui, mi scusi come valuta questa situazione del PD di Taranto? Onorevole, stiamo facendo un informe a una domanda. Anzi